Gli esami non finiscono mai, una regola che non fa eccezione neanche in tempo di pandemia. E così dopo oltre tre mesi di lezioni a distanza, causa emergenza Covid, gli studenti, almeno quelli delle classi quinte, questa mattina sono tornati in aula per sostenere la maturità 2020. Chiaramente più di qualcosa è cambiato rispetto agli anni scorsi, tutti ammessi, massimo cinque candidati al giorno e addio alla tradizionale busta con le tracce del Ministero. La prova è solo orale con l'ausilio di dispositivi tecnologici. Un colloquio di massimo 60 minuti di fronte ad una commissione composta da soli docenti interni, ad eccezione del Presidente. Gli studenti hanno un percorso di cinque tappe in cui iniziano a presentare il loro elaborato sulle materie di indirizzo che è stato assegnato dalla commissione e dai loro docenti, poi passano invece alla trattazione di un saggio breve di documentazione relativa alla prima prova, cioè quella di italiano, con il docente di letteratura. Poi ci sono una serie di documenti scelti dai commissari su cui i ragazzi possono argomentare nelle altre aree disciplinari e quindi in modo molto versatile e interdisciplinare. Poi chiaramente la loro esperienza di alternanza scuola-lavoro e di stage viene chiaramente conferita attraverso una breve relazione e in ultimo si parlerà di cittadinanza e costituzione e quindi valori fondamentali di cittadinanza. Massima attenzione alle misure di sicurezza, controllo della temperatura all'ingresso, banchi distanziati, entra in aula un candidato per volta con al massimo un accompagnatore, mascherine per professori e studenti da togliere solo durante l'esposizione e dispenser di igienizzanti nei corridoi. Le nuove regole di un esame certamente diverso da quello che ci si aspettava, ma che i ragazzi hanno affrontato con maturità. Devo dire che è andata molto bene, nonostante si credeva che la prova sarebbe stata praticamente difficile, invece devo dire che è filato tutto liscio, la nostra presidente è stata sicuramente comprensiva nei nostri confronti e a posteriori posso dire di essere soddisfatta della mia performance. Poteva andare meglio, però tutto sommato sono soddisfatto di quello che ho esposto alla commissione. È una situazione un po' strana, sicuramente, perché comunque ce l'aspettavamo un po' diverso all'inizio dell'anno, invece è andata come è andata. Ci siamo ritrovati a scuola dopo 3-4 mesi di lockdown, però tutto sommato è andato bene. Sono un po' soddisfatto. Nessuna novità sul voto finale, compreso sempre tra un minimo di 60 e un massimo di 100. Si potrà ottenere anche la lode, ma per il momento meglio evitare di festeggiarla. Con baci e abbracci.